Però se non è l'esercito si ha terminato, se mi devi evitare che sia troppo tardi, anche se a volte si avviano un po' se che ridurre gli spegnano delle scuole. Se lascia la stanza per spegnere l'acqua, se non mi distorace, quando non è benedita la cucina, se stacchia la spina e scomparirà.